Ci teniamo alla tua salute. Ecco come proteggerci insieme. In ogni sede Formez è prevista la presenza di un numero massimo di dipendenti. 50 a Roma, 12 a Napoli, 8 a Cagliari. All'ingresso pulisci le suole delle scarpe sullo zerbino igienizzato. Dopo aver igienizzato le mani e indossato la mascherina dovrai sottoporti alla misurazione della temperatura corporea. Se superiore a 37,5 gradi centigradi sarai avvisato da un segnale acustico e in quel caso dovrai seguire un altro percorso. In ufficio è obbligatorio usare la mascherina negli spazi comuni, lavare e igienizzare le mani di frequente e soprattutto prima e dopo aver utilizzato oggetti promiscui e i servizi igienici. In caso di tosse o starnuti bisogna coprirsi bocca e naso, meglio se in un fazzoletto da buttare in un sacchetto chiuso. Sospendi il delivery di acquisti personali presso le sedi forniz. Usa i servizi igienici più prossimi alla postazione di lavoro. Utilizza gli ascensori solo in caso di patologie personali che non consentono di adoperare le scale e comunque una persona alla volta. Gli esterni ai fornitori devono usare i servizi igienici dedicati. Prima di uscire getta la mascherina nell'apposito contenitore. È una questione di responsabilità e prudenza. Nel rispetto e tutela della salute e per contenere la diffusione del contagio, Formez assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro, tastiere, schermi e mouse con adeguati detergenti. Insieme possiamo farcela!